In sonata a Kreuzer, al violino Davide Alogna, al pianoforte Giuseppe Gullotta, musiche di Ludwig van Beethoven, adattamento a cura di Riccardo Ventrella, ideazione e direzione artistica a cura di Elena Marazzita, produzione e distribuzione Aida Studio Produzioni, signore e signori Marco Bocci. Fino al nostro matrimonio, vissi come vivevano tutti nel nostro ambiente. Proprietario terriero, laureato all'università, persino maresciallo della nobiltà. Fino al matrimonio, vissi come vivono tutti nel nostro ambiente, in modo depravato, convinto di vivere come si deve. Mi ritenevo un bravo ragazzo, molto simpatico. Non ero un seduttore, non avevo gusti contro natura. Non facevo del vizio lo scopo principale della vita, come in molti miei coetanei. Mi abbandonavo al vizio moderatamente, correttamente, per motivi di salute. Ho sempre evitato quelle donne che, con la nascita di un figlio o affettandosi a me, avrebbero potuto costituire un legame. Del resto, forse, ci saranno stati figli e affetti. Ma io mi comportai sempre come se non fossero mai esistiti. Non solo ritenevo tutto ciò perfettamente morale, ma ne andavo fiero. Perché la depravazione non è nell'atto fisico. Nessun atto fisico, per quanto disdicevole, è depravazione. La vera depravazione è nel liberare se stessi da qualsiasi rapporto affettivo verso la donna con la quale si ha un rapporto fisico. E di questa liberazione mi vantavo. Mi ricordo come, una volta, mi tormentai perché non potevo pagare una donna che era stata con me, probabilmente perché mi voleva bene. Mi sentii tranquillo soltanto quando le inviai i soldi. Moralmente non mi sentivo assolutamente legato a lei. Tutto ciò era terribile. L'abisso di confusione nel quale noi viviamo nei confronti delle donne e nei rapporti con loro. Sì, non posso parlarne tranquillamente, e non a causa di quell'episodio che mi è capitato, ma perché a partire da quel momento, da quell'episodio, mi si sono aperti gli occhi. E ho incominciato a vedere tutto sotto un altro aspetto. Ho incominciato a vedere tutto all'incontrario. Un testo complicato, difficilissimo, bellissimo, ma per assurdo, anche se scritto alla fine del 1800, un testo totalmente contemporaneo. E quindi un testo che sembra quasi scritto adesso. Ho fatto una piazza attenta, che è facile sentire, che ti sostiene in tutto e per tutto, nonostante sia un reading musicale, quindi una forma a volte che può risultare complicata, ma invece un pubblico veramente molto attento e strepitoso. Guarda, mi sono veramente emozionato davvero. Tutto iniziò quando non avevo ancora 16 anni. Frequentavo ancora il ginnasio, mentre mio fratello, maggiore, era studente al primo anno di università. Non conoscevo ancora le donne, ma, come tutti i ragazzi disgraziati del mio ambiente, non ero innocente. La donna, non una certa donna, ma la donna, quell'essere dolce, la donna, qualsiasi donna. La nudità della donna mi tormentava già. Mi tormentavo per una solitudine, per una solitudine impura, inorridivo. Mi tormentavo di nuovo, pregavo e ci ricadevo. Stavo morendo da solo, ma non avevo ancora trascinato con me nessun altro. Ma ecco che un amico di mio fratello, uno studente, tipo allegro, un cosiddetto bravo ragazzo, sia il più grande mascalzone, insomma, dopo averci insegnato a bere e a giocare a carte, ci convinse, dopo un'avviacatura, ad andare là. E ci andammo. Grande serata, proseguiamo in questo festival in maniera molto decisa, con un pubblico molto contento. Anche Bocci ha, diciamo, rilevato quanta attenzione vi sia nel pubblico. Questa è una notte, una maturità, un interesse, che ormai è una costante del nostro festival. E quindi ci stiamo avvicinando alla terza serata di questa ventesima edizione, che ci ha fatto particolarmente piacere poter tenere di nuovo in una cornice splendida come quella della Esedra Mazzini, con un tempo magnifico. Io non capisco cos'è la musica, cosa fa e perché fa ciò che fa. Dicono che la musica agisca sull'animo elevandolo. Sciocchezze. Non è vero. Agisce, agisce tremendamente. Parlo di me stesso. Ma non eleva affatto l'animo. Agisce non elevando o abbassando lo spirito, ma eccitandolo. Come spiegarvi? La musica mi costringe a dimenticare me stesso, la mia vera situazione. Mi trasporta in un mondo mio, anzi in un mondo non mio. Sotto l'influenza della musica mi sembra di sentire ciò che consciamente non sento. Capisco ciò che altrimenti non capisco. Posso ciò che non posso. Ve lo spiego con il fatto che la musica agisce come uno sbadiglio, una risata. Non ho sonno, ma sbadiglio se guardo uno che sbadiglia. Non ho motivo di ridere, ma rido se guardo qualcuno che poi all'improvviso ride. La musica mi trasporta subito, immediatamente, nella stessa condizione d'animo in cui ci trovava colui che l'ha scritta. Mi fondo spiritualmente con lui e con lui passo da uno stato d'animo all'altro, perché io lo faccio, non lo so. Lui l'ha scritto, la sonata, lui ha scritto la sonata a Kreusen, cioè Beethoven, ed evidentemente sapeva perché si trovava in quello stato d'animo. Quello stato d'animo lo spiegava, lo spingeva a comportarsi in un certo modo e per lui quello stato d'animo aveva un senso. Beh, per me invece no. Il Fossombrone, il teatro festival, sono vent'anni, vent'anni che ha portato tanti artisti, tanti grandissimi professionisti. Una sorpresa vederla, vedere una piazza così viva, vedere una piazza così attenta, insomma, vederla live, vederla davanti ai tuoi occhi, in diretta. Davide Alogna. Perché la campanella? Perché parlavamo prima, mentre facevamo un aperitivo, ecco appunto, Paganini non ripeteva, invece a Fossombrone si ripete sempre. Per cui invito Davide Alogna, Giuseppe Gullotta e invito anche a raggiungerci la nostra Elna Marazzita. Insieme al nostro grande Marco Bocci a tornare a una prossima edizione del festival. Il prossimo ammuntamento è mercoledì 26 luglio alle 21.30 con Valeria Solarino in Il Sesso Inutile di Oriana Fallaci con sax Javier Girotto, chitarra Giulio Tampalini, musiche di Girotto e Tampalini, con l'adattamento a cura di Riccardo Ventrella, ideazione e direzione artistica a cura di Elna Marazzita, produzione e distribuzione, Aida Studio Produzioni. Celebriamo così la terza serata di questa magnifica ventesima edizione, dove abbiamo ripercorso tra l'altro molti aneddoti e ricordi di tanti anni di lavoro che però hanno dato tanta soddisfazione a chi l'ha organizzato, ma soprattutto tante emozioni al pubblico. Grazie a tutti.